La marineria di Sciacca si è fermata oggi e non si esclude che anche domani i pescherecci rimangano nel porto. Non solo quelli che effettuano la pesca a strascico e che dal 10 luglio scorso protestano per l'entrata in vigore del regolamento comunitario 982 del 2019, che nel dettaglio ha introdotto zone di interdizione a questa pratica di pesca, tra queste quella ad est del Banco Avventure e a ovest del Bacino di Gela. E' tutta la marineria di Sciacca che oggi si è fermata per una protesta che potrebbe andare avanti ad oltranza, nonostante sia remota la speranza di vedere revocare un provvedimento che risala diversi anni addietro e che ora è solamente entrato in vigore. Lo ha evidenziato lo stesso europarlamentare Raffaele Stancanelli ieri al nostro telegiornale. Indubbiamente per la marineria di Sciacca è una batosta alla quale si cerca di reagire. E così, dopo l'animata riunione di sabato scorso, oggi i pescatori saccenzi hanno deciso di fermare l'attività di pesca, pure in un periodo di forte richiesta da parte del mercato e di conseguenza di grave perdita dal punto di vista economico. Lo hanno fatto, evidenziano le tre cooperative della pesca, anche per l'ulteriore inasprimento dei controlli, che dopo la presenza di una nave della Comunità Europea, vede adesso anche quella di un pattugliatore della Guardia Costiera effettuare controlli sulle imbarcazioni di Sciacca. Della vicenda è stato informato anche il sindaco Francesca Valenti. La marineria di Sciaccenze chiede agli organi di governo di poter esercitare il proprio lavoro centenario in pace nel rispetto dell'ambiente marino, ma anche nel rispetto delle proprie tradizioni di pesca e soprattutto per poter continuare la propria attività e il sostentamento delle proprie famiglie. Un'altra assemblea è in programma sabato prossimo.